Noi andiamo avanti, dicevo, salutando un ospite che abbiamo qui in radio e che chi è in collegamento streaming e video lo può anche quindi seguire e quindi riconoscere. Si tratta di Enrico Fabraccio, consigliere della Civica Recanati, che salutiamo. Enrico, buonasera. Buonasera a Stereo, in diretta dal Chiostro di Sant'Agostino, Radio RTV. Buonasera a tutti i radioascoltatori e videoascoltatori. Buonasera a tutti. Siamo rigorosamente in diretta, quindi per chi volesse utilizzare il nostro numero storico 071 757 4429 lo faccia pure perché Enrico non teme nulla, nel senso che è qui anche per rispondere o comunque accogliere le eventuali osservazioni dei nostri radioascoltatori. Allora, io qui non avevo attaccato, ecco, ho attaccato anche la registrazione sonora per chi ci sentirà in replica anche questa notte e domani all'ora di pranzo. Enrico, abbiamo tre argomenti da affrontare, se poi usciranno altri benvengano. Io partirei subito dal comitato del quartiere di Castelnuovo, visto che sei tesoriere. È stato eletto Borsella come presidente. Finalmente avete una struttura ben precisa, delineata, uscita dalle urne. Mi sembra che avete votato una domenica 17 dicembre. È il primo comitato ufficiale, regolarmente costituitosi, del quartiere Castelnuovo. Adesso, che vi sarete sicuramente anche uniti, nel frattempo, volete fermarvi qui oppure volete andare avanti? Siamo stati una domenica. No, nel senso, volete farvi sentire o no? Asterio, guarda, innanzitutto ringrazio a chi è venuto a votare, a chi ha dato la disponibilità per il quartiere di Castelnuovo. È stato più volte annunciato. Io un paio d'anni fa ho preso la situazione in mano creando un gruppo Cambiamento Castelnuovo, che poi su un quartiere come il nostro, che ha enormi difficoltà e soprattutto un quartiere asterio disabitato, non è facile avere persone che si impegnano perché quando un quartiere perde la sua storicità delle persone che ci hanno abitato, tante volte succede di lasciare fare, di non vedere i problemi, di rassegnarsi. Invece ci sono state diverse persone che in questi anni si sono impegnate. Poi, tra i vari impegni personali, il gruppo Cambiamento Castelnuovo è decaduto. Ho aspettato qualche momento fino a che abbiamo tirato fuori i famosi cartelli, se non venite voi non dite che non lo sabaiovate. E alla fine hanno... Alla fine sono venuti. Sì, sì, sì. C'è stato questo slogan con grande marketing, siamo riusciti a coinvolgere i castelnuovesi quelli veri, l'abbiamo portato in riunione al dopolavoro, al circolo Venia Minocigli e poi abbiamo fatto, diciamo, in modo che nel più breve tempo possibile si facesse un'elezione. Un'elezione perché? Perché il grosso problema è proprio questo, quello di ritornare a coinvolgere il quartiere. Ci sono stati 82 votanti, ci sono state persone volenterose che sono state al seggio, quindi hanno trascorso, anziché con la famiglia una domenica, sono state su una sede da aspettare tutti quanti. Siamo stati eletti io, Germano Porcella, Andrea Tubaldi, Enzo Tubaldi, Tiziano Mangoni e Mauro Falzone. Siamo stati eletti. C'è stata una buona partecipazione. Quindi siamo più che contenti. Di ora abbiamo dato ognuno un incarico e ci siamo dati delle raccomandazioni perché questo è un comitato che lavora nell'interesse di Castelnuovo. Qualcuno non era d'accordo nel votarmi o nella mia candidatura perché essendo consigliere comunale io vi posso assicurare che io ho sempre agito nel nome e per conto nell'interesse del quartiere. Non mi interessa di farmi pubblicità come tanti dicono per avere visibilità all'interno del quartiere. Io ho un immobile all'interno del quartiere. Non ho ambizioni politiche di presentarmi a queste politiche. Assolutamente, anche perché non è che devo fare la questua a Castelnuovo. I posti sono pochi. La questua a Castelnuovo. Se voglio fare campagna elettorale la faccio con la serietà, con la passione che metto nei confronti di Recanati. Il comitato di Castelnuovo è tutt'altro. Tanti hanno detto che non scambiamo la politica con l'attività del comitato. Tutto quello che facciamo nell'interesse della società è politica. I comitati di quartiere nascono nel momento in cui, nelle società normali, che non sono società utopiche, nel momento in cui c'è bisogno, data da qualche mancanza dell'amministrazione, data da un degrado di un quartiere, di intervenire socialmente in quel quartiere. Ma è normale che sia. Soltanto nell'utopia le amministrazioni riescono a gestire tutto quanto. Quindi è bene che si lavori sempre nell'interesse del quartiere e che ci siano persone che lo vogliono bene. Io insieme a Enzo siamo stati più votati, con 38 voti. Poi c'è stata Nicola Cingolani, che forse ho dimenticato prima e mi scuso pubblicamente. Poi c'è stato Andrea. Comunque siamo tutte persone che provengono dal quartiere, da generazioni, e quindi conosciamo bene le esigenze. Lunedì mattina alle 9 e mezzo ci sarà l'incontro con il sindaco, che andremo... Quindi avete già... Assolutamente, noi abbiamo promesso di iniziare a lavorare, quindi andremo lì con le macchine fotografico, i video, a vedere... Ah, pensavo con i forconi. No, i forconi che mi serviranno poi se le promesse non vengono mantenute. Visto anche l'articolo della Cassazione, che si possono insultare i rappresentanti politici se non rispettano il programma che hanno dato. Quindi... Una sentenza da grillino. Grillina. Una sentenza da grillina. Una sentenza da grillina. Una sentenza da grillina. Una sentenza da grillina. Quindi può essere che se non sarò bravo mi autoinsulterò anche, quindi prendere coscienza. E quindi ecco, siamo da lunedì, partiamo, c'è tanto da fare, sono convinto che il gruppo è motivato. Abbiamo deciso, pensavamo di essere in 5, abbiamo deciso di essere in 7. Perché? Perché poi sai, nel portare avanti un gruppo può succedere che uno non c'è, quindi vogliamo essere sempre rappresentanti. Io posso capire naturalmente questo incontro con il Sindaco perché avete da affrontare il problema che tu già mi avevi accennato. Parcheggi, strade, cause, viabilità, l'abbandono dell'ex scuola Carancini che si trova vicino, la chiusura, ormai da tempo, anche se quella chiesa non mi sembra di proprietà comunale, mi pare, è quella della curia. Però è anche vero che necessite urgine un incontro anche con la fondazione Ircher per quanto riguarda quelli immobili che sta cadendo a pezzi. L'altro giorno, quell'articolo che abbiamo fatto, cioè due anni fa in settimana bianca mi arriva una telefonata che cade una persiana. Sopra la macchina di mio padre, per carità, tutto può succedere, fortunatamente la Madonna di Loreto ci ha illuminato, quindi mia madre ancora è sana e salva e oggi mi ha preparato da pranzo. L'altro giorno, molto importante, l'altro giorno, una cosa è... No, ma tempo fa è caduto un pezzo di tegola, di grondaglia. Un pezzo di grondaglia, sopra la macchina di mia cucina, io non so se qualcuno... Ah, tu sei tutti parenti, ragazzi. Eh, ma te l'ho detto, sono queste nuove sedocche, però non so se qualcuno è l'ircher, noi gli stiamo simpatici e ci butta giù la cosa apposta. No, ma anche perché rischiano, perché uno chiede risarcimento danni, deve tirare fuori. A stereo, ma aspettiamo il morto, l'altro giorno, sempre sul piazzale, sopra il dopolavoro, cade una tegola, che poi è un palazzo del 1200, non è che parliamo di una palazzina... Una bella tegola, poi. Una tegola, io a stereo ti ho fatto vedere quelle fotografie. Vecchio coppo? Vecchio coppo, coppo in mattoni, 90 cm per 50, ha 6 metri e mezzo d'altezza, 6 metri e 10 kg, arriva a 60 km all'ora, si arriva perpendicolare, è la volta buona che da Enrico ne facciamo due. Questo è quello che succede. Quindi io penso che il quartiere adesso abbiamo sdrammatizzato, ma la situazione è difficile. È intervenuta la ditta immediatamente, perché veramente... Sì, l'ha fatta da mandare dirci. Ragazzi, ragazzi, succede qualcosa, cioè noi possiamo avere sulla coscienza che da un momento all'altro può cadere un coppo sopra la testa di qualcuno. C'erano tutti i detti sfondati, noi piano piano... Noi abbiamo fatto una denuncia subito alla Polizia Municipale, ma signori, questa è una situazione da intervenire subito, subito a stereo, subito. Quindi ecco, tra le tante cose, il comitato è questo, lavoriamo, adesso hai i primi risultati, li renderò pubblici in modo che riusciremo a equipararci ai storici comitati di Santa Lucia, Pagnolo, che vedo che si danno molto da fare, sia nella costruzione di varie opere, che hanno anche una collaborazione col comune, a stereo prendono qualcuno 4-5 mila euro all'anno per gestire il quartiere, quindi io mi aspetto che anche Castelnuovo ci abbia lo stesso trattamento. Ci abbia, diciamo così, stipuli una convenzione magari con il comune per la gestione almeno di alcuni spazi vetri. Per esempio c'è quel giardino che sempre mi sembra di proprietà degli Ircher, accanto all'ex scuola Carancini, una cosa era stato inaugurato come giardino per l'infanzia e per gli anziani, e poi è stato chiuso quel cancello e è stato più riaperto. Ormai ci sono solo i topi e il bacio. Quello lì è più o meno come è tenuto, ne ho visti due in vita mia, quello della reggia di Versailles e quello di Castelnuovo. Ah, lo ha tenuto loro. Sono tenuti uguali, ci fa solo un metro e mezzo d'erba. Di differenza. Il quartiere di Castelnuovo è un disastro, soprattutto abbiamo bisogno di un selciato nuovo, di pulizia, di regolamentare tutti i parcheggi, abbiamo bisogno di regolamentare il traffico, il quartiere deve cambiare perché gli immobili si stanno svalutando in maniera incredibile, ci sono case a 30-40 mila euro, cioè neanche una macchina signori, qui stiamo andando veramente alla deriva, non ci sono servizi, abbiamo anziani che devono essere accompagnati per comprare una fila di pane magari in supermercato o fare spesa, cioè un quartiere in piena decadenza e lì dobbiamo intervenire perché veramente fa parte della storia del canadese. Quindi è inutile poi pensare di avere investimenti da parte di costruttori o negozi che mi immagino Peniamino Papa, storica macelleria, è in piazza e credo che faccia 20-25 volte il business che faceva a Castelnuovo perché naturalmente non è facile. Beh, la vera salumeria e macelleria è a Montefano, mi pare una trasferita. Poi dopo di che c'è un distaccamento. Poi c'è avuto l'idea molto lungimirante, visto che al centro storico non c'è nessuno, di mettere un punto di vendita e di ristoro. Assolutamente, aperitivo alla vecchia maniera, quindi anzi... Con salumi, adesso facciamo un po' di pubblicità. Adesso finita la trasmissione, faremo il possibile per andare a contribuire. Quindi ecco, il comitato è in piena forma e da lunedì inizieremo a lavorare e non faremo politica, opposizione o qualsiasi cosa, ma quello che non ci andrà giù non ci andrà giù, quindi saremo assolutamente combattivi. Allora, tu avrai seguito sicuramente la vicenda che è di questi giorni, del scontro interno che si è creato, interno al PD, fra la parte maggioritaria e quella minoritaria. Tutto è scaturito, anche se lo scontro è da tempo, perché se tu ricordi c'erano le famose sedute del Consiglio Comunale andate a vuoto, la Pasqua dell'anno scorso, due serate consecutive si gridò, ma allora subito i pompieri dell'amministrazione si sono messi in opera, cioè sono usciti con le autobotti a dire no, è stato semplicemente il fatto che durante la settimana di Pasqua era prevedibile che molti avevano impegni per andare a visitare i sepolcri, adesso lo dicono loro che in realtà quelle famose defezioni e assenze erano dovute a contrasti interni, a cagnari interni al PD, ma ci voleva tanto quella volta a dirlo, ci hanno portato in giro dicendo che era andato a visitare i sepolchi per cui la situazione del Consiglio Comunale non era possibile. politica, nel momento in cui governa il PD, l'Italia si ferma secondo quelle che sono le divergenze all'interno delle fazioni politiche del PD, cioè noi abbiamo seguito la campagna elettorale di Renzi per due anni, l'Italia è stata immobile senza riforme per seguire la campagna elettorale di Renzi, voi signori avete votato a persone che 5 anni fa Pierluigi Persani non è stato capace di creare un governo, Pierluigi Persani è stato 6 mesi senza riuscire a fare un governo, l'antiperlusconismo in Italia da 5 anni a questa parte ha portato solamente problemi, noi non possiamo pensare di fermare un paese perché c'è una scalata sociale all'interno del partito da parte di una fazione di minoranza e gli si dà visibilità mediatica assoluta come il Salvatore, altro che Berlusconi, perlomeno Berlusconi è una persona che voglio dire se l'altra sera ha parlato a porta a porta, due ore ha raccontato da quando era adolescente a quando adesso ha 80 anni, l'attività politica, quindi voglio dire noi possiamo fermare sempre l'Italia, l'attività amministrativa perché c'è i capricci di qualcuno, benissimo la democrazia non è facile da gestire, quindi mi immagino che non è che sono una lista civica dove c'è magari una persona che è un leader e poi ci si mette d'accordo su tante cose però è pure vero che a un certo punto se si parla di direttivi, di primarie, di finta democrazia quella all'interno del piede, tutto quanto, se una persona sbaglia, come potrebbe essere successo recanati, come potrebbe essere successo, che magari non si tengono conto neanche di quelle che sono le votazioni che hanno preso i propri consiglieri, si toglie una delega a qualcun altro, che magari si fa un'azione, si crea una giunta non rispettando la democrazia all'interno del comune, si fanno diversi, a un certo punto il direttivo, a parere mio, deve prendere coscienza che non c'è dialogo, si commissaria il partito, si chiude questa esperienza con quella persona e si va avanti, cioè se veramente questa è democrazia, la democrazia cristiana ogni anno e mezzo cadeva un governo, sbaglio? no, anche adesso mi pare, ogni anno e mezzo cadeva un governo, in cinque anni c'è stato Berlusconi, Monti, Letta, Renzi e Gentiloni, cinque governi in cinque anni, quando c'è la democrazia cristiana è la stessa cosa, ogni anno e mezzo cambiava le fazioni all'interno del partito e cadeva un governo, ma questo per magari rispettare la democrazia, perché ci può essere una dittatura stalinista, io faccio, se no lascio, ricatti su ricatti, cioè teniamo ferma la politica per i capricci di qualcun altro, io credo che questo non sia giusto, né nei confronti dei cittadini, se io domani mattina sono un imprenditore, mi serve di comprare una lottizzazione a Recanati, che serve una variante di giunta, domani mattina ho questa esigenza che può far crescere il mio paese Recanati, in questa situazione politica credo che non trovo neanche nessuno per parlare in comune, perché dobbiamo aspettare mercoledì che c'è la manna dal cielo, che c'è il direttivo del PD, sei di sicuro che c'è il direttivo? No, no, effettivamente si fa questa data, mercoledì il direttivo del PD, allora ogni tanto dico pure qualche cosa, no, no, sei persona informata dei fatti, quindi sarai sentito dal giurì, perché, allora, bene, io credo anche negli animi di chi, che sono tutte bravissime persone, ho molti amici all'interno del PD, abbiamo governato un periodo insieme in alleanza, poi ognuno ha preso le proprie strade, però che io devo fermare tutto quanto perché ci sono lotte politiche interne, credo non sia rispettoso nei confronti di chi ha dato il voto a una certa fazione politica e si aspetta di avere un aiuto o di avere un buon governo all'interno sia della città e a livello nazionale, questa è la premessa. Senti, tanto ripeto, 0717574429, allora io faccio una breve considerazione, vorrei che anche tu magari riflettessi un attimo, ci avrai già riflettuto sicuramente, allora partiamo dalla questione, ritiro della delega a Biagiola, è la prima volta che accade, cioè è la prima volta che il sindaco, pur apertamente in contrasto con un suo amministratore, arriva a questa decisione, quindi le cose sono due, o è successo qualcosa di profondamente grave, oppure il sindaco ha perso quella sua originaria tolleranza, diciamo così, perché allora Taddei con quale era in contrasto da parecchio tempo, lui non si è mai sognato di togliere la delega, fino a che Taddei ha deciso di andarsene lui, ricorderai il caso Massaccesi, Massaccesi era in giunta come assessore alla sanità, ha fatto, diciamo così, la sanità l'ha seguita in realtà molto più magari poi lo stesso sindaco, perché Massaccesi aveva assunto una posizione che era in contrasto con quella dell'amministrazione, lui era andato direttamente a fare in pullman insieme ai cittadini prendendosi i rimproveri del sindaco e della Mariani, ricordiamo quando andarono i cittadini in regione ci andò pure Massaccesi e a ritorno il sindaco fece un duro comunicato nei suoi confronti. Poi abbiamo il caso Beccacece ad esempio, per dire, Beccacece era stato nominato agli Ircere, era diventato presidente, era pienamente in contrasto Beccacece con il sindaco Fiordomo, ormai non lo si nascondeva neanche negli ultimi anni del mandato Beccacece, eppure è rimasto sempre lì e il sindaco non si è mai sognato di mettere in discussione il consiglio di amministrazione di Ircere, perché l'ha fatto con Biaglione? Che cosa c'è che è successo? Scusami, la nuova giunta come è stata decisa? Adesso, a parte gli scherzi, partiamo dal ruolo il sindaco, il capo di un'azienda, una persona che ha responsabilità, una persona che deve fare squadra, una persona che deve tenere rapporti con delle persone con la quale ci deve essere uno scambio di fiducia reciproca e soprattutto ancora più difficile rispetto a un capo di un'azienda, perché un capo di un'azienda nei confronti dei propri collaboratori ha il potere di pagare il salario e quindi c'è un rispetto dovuto. Nel momento in cui io sono un alleato che io alle persone mie care ho fatto votare Francesco Fiordomo, le persone che credono in me, tu a me e alla mia lista devi il pieno rispetto e la massima rappresentanza. Biagiola io non voglio entrare in merito alle decisioni del PD, penso che si pronunceranno anche loro. Assolutamente, ma soprattutto Biagiola per quanto uno possa ognuno interpretare quello che vuole, Biagiola è la persona più votata a Recanati, Biagiola ha preso 450 voti, Andrea Marinelli ha preso 350 voti, queste persone sono persone che il loro nome è stato scritto da 350 ai 453 canadesi. Andrea Marinelli doveva fare l'assessore alla cultura, perché si chiama rappresentanza politica, perché l'assessorato come magari si dà per fiducia ma si dà anche per rappresentanza. La stessa cosa la delega di Biagiola che poi da consigliere non è neanche remunerato, per quanto uno possa opinare sul proprio operato significa rappresentanza politica. Armando Taddei è stato assessorato al turismo per 7 anni dentro la giunta Fiordomo, la lista civica Recanati è la prima lista civica all'interno delle elezioni comunali che abbiamo preso 700 voti e quindi ci è aspettato un assessorato che poi anche lì non abbiamo mai avuto posti all'Ircere, non abbiamo mai avuto nient'altro, alla Stea si sono divisi sempre con Marconi tutto quanto, tutto quello che è stato fatto quando noi abbiamo preso 690 voti, Ludicina ha preso 740, quindi voglio dire che lui aveva 10 incarichi come Mastro Pasqua, noi ce ne avevamo uno, però a noi non è che ci interessa, voglio dire che ringraziando Dio lavoriamo tutti, quindi non c'è bisogno di avere riscontri elettorali ma quello che io dico, la rappresentanza politica è importante, naturalmente il partito oggi è in scotto. Tu giustamente dici, almeno chi ha avuto un consenso elettorale... Se tu fossi stato il più votato Recanati avresti accettato di fare il consigliere semplice punto interrogativo, io l'avrei preso... Sicuramente l'avrei preso come un'offesa, il fatto di non aver preso in considerazione la volontà di 450 cittadini, però la questione è questa allora, il sindaco rivendica pieno autonomia e dice, il decido io, no, e quindi penso io però è anche vero, non devo rendere conto al partito, va bene, questa è una questione che si vedrà con il partito, non è che io non ci interessa, mi interessa più di tanto però è anche vero che se lui non deve rendere conto al partito dovrà rendere conto gli elettori. Assolutamente. Lui è andato su come sindaco, votato, no, però non è l'imperatore nel senso che è un nuovo duce, è andato su attraverso i voti come... è stato eletto il consigliere e anche l'altro Marinelli che tu citavi con un pacchetto di voti, no, più che discreto, anzi sicuramente prestigioso. A questo punto se tu togli la delega ad un consigliere, no, almeno per gli elettori, non dico per il partito, ne vuoi dare giustificazione? Cioè non può esserci in quelle due parole contenute in un comunicato, gli elettori devono capire perché l'hai mandato via, cioè non ti può rifugiare in non nulla dire per dire e poi rivendichi la volontà e il diritto di fare quello che pensi più opportuno, però dovrai pure giustificare chi ha votato questa gente. Noi per quello che è la situazione politica nostra della lista civica, tutti questi errori politici per noi è solo un piacere. Ah ma certo, ma per l'avversario politico dice più è scannato e più... No, per noi personalmente, noi siamo persone tranquille che operano per passione, quindi a noi non ci interessa, a me quello che mi dà fastidio sia a livello nazionale e territoriale che noi dobbiamo fermarci, fermare l'attività amministrativa secondo i capricci che ci sono all'interno del PD. Non è successo mai in nessun partito, non esiste, non esiste e questo è quello che mi dà fastidio. Poi dopo gli errori politici se la vedranno con le persone che qualsiasi cosa succeda prendono quella croce e mettono partito democratico, lo levo, mettono sempre qualsiasi cosa, possono candidare chiunque ma l'importante è che si vota sempre un PD. Quello che mi dispiace è che adesso a marzo ci saranno le elezioni e finalmente si vedrà la verità. Poi dopo... A meno a livello nazionale, poi a livello locale vedremo come ci si organizza. Sicuramente la scena politica sarà completamente differente. A livello locale se domani mattina si va a votare noi siamo pronti, non c'è nessun problema. Sarà pronto anche il sindaco secondo te? Guarda, dalla parte nostra vedremo che alleanze prendere ma... No, dico a parte l'alleanza, secondo te sarà pronto anche il sindaco per scendere, non sarà più votato come sindaco però potrà fare sempre l'assessore per dire... Io a stereo, guarda, parlare ti dico... Può candidarsi in lista. Io quello che non capisco, ecco, non capisco è la rappresentanza comunque secondo quello che sono i voti che sono stati presi, questa giunta come è stata costruita, non l'ho mai capito. Infatti è una giunta che poi è stata sempre instabile. Si è dimesso un assessore, sono state litigate, consigli comunali continui sulla scuola Pena Mio Cichi, sette, otto consigli comunali, due deserti, cose dell'altro mondo, non facciamo i sepolcheri, poi rifacciamo a San Vito, ci sono stati diversi, si è fatto molto, Arecanati sono entrati quest'anno, signori, 32 milioni di euro, 32 milioni di euro è quello che prende Macerata con un anno di bilancio, nel senso che come ho detto in Consiglio Comunale per quello che è stata la percezione del terremoto Arecanati noi ci è arrivata una manna dal cielo, immaginate, iniziamo a contare, i soldi del Colle dell'Infinito, 15 milioni per il Palazzo Comunale, 2 milioni dal Coni per quello che riguarda l'ampliamento del palazzetto, la vendita della Stea, 2 milioni e mezzo di euro, adesso come mi viene qualcosa vi dico, sommandoli 30 milioni di euro, siamo sopra i 30 milioni di euro, patrimonio arecanatese siamo pari a zero, concessioni dei parcheggi non abbiamo più niente, abbiamo 99 anni per il grande parcheggio e le altre fatte da Corvatta prima per 50 anni sui parcheggi, che poi l'unica città che non c'è i parcheggi con la differenza di prezzo è Arecanati, in qualunque città civile uno va, se scade il disco orario paga la differenza, ha pagato il biglietto e finisce la scuola. voglio dire, come fai a fare il caso? Perfetto, questo è quello che... Che poi non ho capito, chi le bie quei soldi? La ditta che gestisce i parcheggi? La paltatrice signori, tutta? La ditta a paltatrice, c'è in percentuale una parte fissa per il comune, noi c'è già stato liquidato, quando firmi la concessione è normale che la concessione firmata dia un'entrata gestione del parcheggio è quello, però se ci sono delle sanzioni... Tu ti vendi un'area pubblica, non ti dico che ti vendi ma l'affitti, Asterio, per un tot di anni è un'area pubblica che ti dà, credo, un'entrata annuale ma il resto è privato, quindi loro hanno già liquidato il comune un certo migliaia di euro nel prendere la concessione, quello del parcheggio nuovo c'è il project financing, quello a 99 anni, gli altri parcheggi non lo so, non c'ero, forse ero anche piccolo, quindi non so, però ti dico che ancora non paghiamo a differenza, questo è un disastro, ma soprattutto Asterio abbiamo tre zone di parcheggi, da una parte si paga di più, da una parte di meno, tariffa unica signori, basta con la... E dopo la fa dire tutta tariffa blu, la più alta, no? No, tariffa unica, 80, 90, un euro, un euro, tariffa unica, basta con la marchetta della mezz'ora di tolleranza e poi tenere l'estate su tutta via Cesare Battisti i parcheggi fino a mezzanotte, cosa che ha cacciato tutti i frequentatori dei locali serali, ma no, non vengono più, ne sa una cosa Luca Falaschini che ha protestato, ma chiunque deve protestare, ma anche perché Asterio, se tu vivessi a Verona o vivessi a Venezia o vivessi a Padova, a Roma, a Perugia, neanche Ancona, posso nominarla perché anche Ancona non è che è una città di grande partecipazione, però ti dico, oi, c'è una città universitaria, ci sono cento locali che fanno aperitivi, c'è un problema di gestione del traffico, mettiamo lo ZTL, mettiamo i parcheggi a pagamento, c'è sta tutto, ma una cittadina della provincia di Macerata, che ha 21.300 abitanti, quest'anno si è persa 600 persone, quindi non c'è neanche ricambio, ti fa capire quello che è la partecipazione dei giovani, in crisi demografica, che tu crei in tutte le maniere la possibilità per non venire le persone, allora c'è qualche problema, scusami, adesso io per andare a prendere una birra al Grindor o al Caffè della Pè o all'Oldway devo pagare 1,20-1,50 euro di parcheggio, ma scusate vado a Civitano che non si pagano la sera, scusami Asterio, almeno c'è un minimo di riscontro, se penso così, bene la città culturale, ma siamo una città che sta intraprendendo la strada del turismo, bene le grandi pubblicità, i cartelloni maestosi, noi siamo bravi, però... Dovrebbe lasciare liberi i parcheggi almeno nelle ore sedali. La differenza, ma lui vedi che la sera non le fanno, non ci sono più gli ausiliari del traffico, perché la sera non conviene pagare gli straordinari e gli ausiliari secondi. Però le fanno le multe, si vede che passano le pattuglie di liceo. Ma certo, quando c'è Lunaria, quando c'è l'EMF, quando ci sono le manifestazioni di Le fatte le stanno l'MF. All'EMF sono state fatte le multe sulle macchine fuori porta, se ricordate... Cioè, le canali di... Agli artisti? No, sostanzialmente. Ah, agli clienti, cioè agli spettatori. Quando ci sono 6.000 persone è normale che ci sarà qualche macchina fuori posto. Tante volte quando si fa serata a Villa Coloreto si fa il senso unico, sbaglio, è così. Quindi è normale che quando c'è una grande partecipazione, fortunatamente come quella che facciamo alla nostra festa estiva, è normale che ci sia un minimo di problematiche. Ma è una gestione ordinaria. Cioè, se noi andiamo a fare le multe, c'è qualche problema. I parcheggi, ho parlato dei parcheggi. La farmacia comunale è stata venduta tempo fa, quindi... Beh, ormai diversi anni fa. Benissimo. Tempi di colpato per parlare. Tempi... bene. Quello che è il palazzo dell'Ircer, delle Clarisse, è stato venduto e l'abbiamo dato il gruppone all'Ircer. Ok. La Stea, non ci siamo venduti l'intero pacchetto azionario, siamo venduti la parte che rendeva i soldi. Quindi tutto il pacchetto clienti e ce l'abbiamo. Società compartecipate non ci abbiamo più niente. Che ci abbiamo? C'è una società informatica e ci abbiamo una quota da 25 euro. Ci abbiamo il Cemaco che è la società, quella che sta, se non erro, che sta sulla piazzola di Villa Potenza dove si fa il centrofiere che oggi viene utilizzata anche, che è un ex mattatoio. niente, siamo in dismissione delle quote. Il Comune è recanati e deve rifare il PRG perché anche le aree edificabili sono completamente ormai tutte edificate. Quindi se abbiamo un'emergenza come quella che il mio assessore Armando Taddei sta pronunciando da anni su quello che riguarda la variazione delle zone agricole in zona Squartavue che sono stati pagati per anni, tasse per zone edificabili che poi sono state rifatte passare agricole e dove ci potrebbe essere una class action da parte di tutti i proprietari che hanno decine di migliaia di euro da riprendere indietro e se abbiamo un milione di euro di emergenza che facciamo? Facciamo la fine d'Offagna? Perché hai fatto Offagna? È fallita. Feste medievale. Offagna è fallita. Ah, è fallita. Ci ha avuto un risarcimento. Commissario? Ci ha avuto un risarcimento. Ah, per il via del Pippe? No, ci ha avuto un risarcimento importante su una causa che si è conclusa dopo 15 anni, il Comune è fallito. Io non è che dico che Reganati farà la stessa fine, però dobbiamo concentrarci sui problemi ma non sulle litigatine all'interno del PD, perché voglio dire, è rimasto un anno e mezzo di amministrazione, non abbiamo più voglia di governare, andiamo tutti a casa, andiamo alle elezioni e vediamo chi è che va. Per noi è solamente un favore, quindi chiunque, qualsiasi cosa si vuole fare, noi siamo pronti, senza problemi. Senti, è stato considerato veramente un tema minimale e quindi quasi un tema forzato nella sua importanza che si è voluto dare e che sarebbe stata esagerata, quello del decoro urbano. Ora, io ricordo, perché ultimamente è stato risollevato il problema del fatto che lungo la passeggiata lobardiana ci sono troppi frequenti esempi di maleducazione. Ora, io non è che mi staccio le vesti per queste cose, per carità, nel senso che cane in giro, fa il suo mestiere, quando ha voglia, lascia qualche ricordino dove gli capita, perché sta fuori casa, sa che sta in un ambiente in cui può fare quelle cose, è stato abituato al padrone a non utilizzare l'ambiente domestico, il padrone dovrebbe raccoglierle, ma non sempre questo è un compito che è agevole. E quindi sono nate diverse proteste da parte dei cittadini, diverse segnalazioni, per cui a un certo momento mi sono mosso, anche io, per segnalare questa situazione di degrado che ho potuto verificare direttamente. Ora, nell'aprile del 2016, ormai famigerato, aprile 2016, cioè famigerato nel senso che no, quello era aprile 2017, quelle sedute saltate, nell'aprile 2016 in Consiglio Comunale venne portato su un'iniziativa di un consigliere di peso come Massimiliano Gruffi che è presidente anche del Consiglio, una mozione firmata da tutti voi sul decoro urbano. si parlava delle cacche degli animali come delle muzzicone di sigarette, delle foglie di carta che venivano lasciate qua, là, su e giù, magari dimenticando che nel decoro urbano ci sono tante altre cose che lasciano a desiderare ma che non sono state elencate in quella mozione. Detto questo, quella mozione per quale motivo si fa quelli teatrini di consigli comunali in cui si annunciano buoni propositi, si vota tutti insieme una mozione che impegna la Giunta ad attivarsi su quel fronte, magari nel rispetto, le stesse ordinanze che il sindaco ha emesso precedentemente e poi non si fa niente. E' questo che si vuole mettere in evidenza, non tanto la cacca dei cani sui marciapiedi, cari signorini che commentate sui siti, sui blog, in maniera quasi snobbe, dice ma guarda questo a che cosa va pensando, quali problemi solleva. No, il problema è che ancora una volta siamo di fronte a una classe politica che vi dà ad intendere che è impegnata e sensibile su alcuni problemi, poi non fa nulla. Asterio, le deiezioni canine sono esattamente quattro anni che faccio il consigliere comunale e le prime commissioni alla quale ho partecipato, ho avuto possibilità di affrontare questo argomento, è stato promesso che veniva rafforzato il controllo dei vicini urbani, anche in Borghese sulla passeggiata, che possa essere un deterrente. Allora, al di là che chi fa fare la cacca al proprio cane la lascia lì, è proprio un cretino, su questo senza peli sulla lingua e spero di non vedercelo mai perché veramente io ne dico quattro o cinque, perché se veramente non c'è una rieducazione sociale anche dagli altri cittadini che tengono al paese, come succede in tutti i paesi del nord, non c'è solo il controllo, ci deve essere il controllo e la legge deve essere un deterrente, però talvolta bisognerebbe riprendere pure da parte di cittadini a altri cittadini dicendo sei un cretino, perché adesso quella lì rimane qui fra un mese e magari quello che corre dopo di te ce l'ha sotto i cosi, cioè tutto un discorso di maleducazione che va ripreso. Poi la gente abitata a camminare con i cellulari in mano, manco guarda per terra. Sì, manco guarda e poi ci attraversa pure la strada. Ci attraversa la strada. Però comunque a stereo questa è una cosa, rafforza, allora, polizia municipale controlli anche in borghese, quindi io mi immagino il capo della polizia municipale che corre dietro al padrone del cane che ha lasciato... Il problema è che naturalmente per fare una multa c'è il bisogno di cogliere in fragranza il fatto. Allora, potrebbe essere, sicuramente se riusciamo a coglierne 4-5 e pubblicizzare effettivamente la cosa con una multa, secondo me sognerebbe fare una politica proprio per cercare di far divenire più salata la multa innanzitutto, mettere delle telecamere lungo il girone... Tu dici, in questa maniera non c'è bisogno di cogliere sul fatto, c'è l'immagine... Sia per la sicurezza, anche perché ha regalato il fenomeno del correre del fitness all'interno della passeggiata leopardiana è un fenomeno che si sta espandendo sempre più e quindi mi immagino che con delle telecamere anche far passeggiare delle ragazze sole anche in da serata sia più sicuro, perché comunque ci sono spazi anche poco illuminati e bene che sia. Anche per il discorso del progetto del Colle dell'Infinito, quello potrebbe essere anche un... Visti di tanti milioni potrebbe essere anche un piccolo discorso messo all'interno, questo io mi immagino. Quindi telecamere... Ma un altro problema è quello dei sacchetti, tanti dicono... Eh, dove lo vado a prendere io il sacchetto? Se quelli sono sempre vuoti. Andi a che tu c'è responsabilità di un cane... Non credo che se c'hai un figlio, lo prendi, gli levi il pannolone e lo fai cagare in giro per i canati. Quindi io credo una cosa, siccome, siccome, credo Asterio, siccome è giusto che tu c'hai la responsabilità del proprio cane, perché ricordatevi che se un vostro cane esce di casa... Però il comune potrebbe dare una mano su questo. Un cane viene equiparato giuridicamente a una persona all'interno dello stato di famiglia. Se un cane esce dal proprio cancello e provoca un danno a terzi, manda a sbattere una macchina. Se non ci avete l'assicurazione, andate a risarcire voi personalmente col vostro patrimonio. Quindi nel momento in cui si va a prendere un cane, oneri e onori. A proposito, un cane che commette e provoca un incidente stradale, in cui la vittima ha lezioni superiore ai 40 giorni di prognosi, che fa? Il padrone viene denunciato per l'omicidio colposo, no? Per l'uscidio stradale, no? No, non viene, non viene, però tutto quello che è il risarcimento... Però la responsabilità c'è. La responsabilità civile c'è, c'è. E quindi viene equiparato a un membro del nucleo familiare. Io non credo che un figlio, voi fareste fare una figuraccia del genere a un figlio portandolo in giro, sia per rispetto dell'animale stesso e soprattutto per rispetto della società. Ma che stiamo scherzando? Stiamo scherzando veramente, ma quella cacca lì chi la raccoglie? Ma l'ho deciso io. Sono persone con cani da 50 kg che fanno... E' quello che io posso capire, un padrone, quando c'è quel malloppo lì per terra, lo fai a casa tua, a casa tua. Devi di fuori con una pala, no? Io non farei 40 euro di multa, ma ne farei 150, così almeno i primi 3-4 casi che succede una cosa del genere, con telecamere vediamo come funziona, se la prossima volta la fate. Io problemi non ne voglio, io a casa un cane non ce l'ho, a stereo, capiamoci, io sono libero, vado, passeggio, faccio quello che mi pare. Ci sono tanti amanti di cani, sono più che contento, però sempre nel rispetto, rispetto di tutti quanti, perché non può divenire la cacca dei cani un problema sociale, cioè che tutti i giorni tipo sterco di cavallo che devi stare con l'uncino, stiamo veramente al de... Una volta ti ricordo che lungo la strada c'erano quei pulisci scarpe, quelle cose di ferro, quelle cose di ferro, adesso non so, quelle specie di, qualcuno magari che c'ha più memoria e anche appropriatezza del termine, io non me lo ricordo, comunque erano dei quadratini con una lamina di ferro che servivano appunto per pulire le scarpe, come una volta c'erano gli anelli per attaccare i cavalli, si muri, va beh, è un'altra cosa. Non vorrei avere un maniscalco dentro casa per potermi pulire gli stivalli, quindi l'altro problema sono quelli dei sacchetti, non è che io posso fare la cacca al cane perché il sacchetto non c'è dato alcune, è che il sacchetto io me lo dovrei procurare prima di uscire di casa, questa è la mia responsabilità. Io dico però, il Comune, visto che ce l'ha messo i contenitori, ci ha fatto una campagna pubblicitaria, si è vantato di queste iniziativa, vuoi rifornirle e metteci. Allora, ho parlato diverse volte con l'architetto Maurizio Paduano, che è l'addetto, dona ai sacchetti ma mi sembra che si era interessato nell'installazione dei distributori e quindi penso che tiene rapporti pure con la ditta che ha questi sacchetti biodegradabili. Quindi, io ho detto Maurizio, ma per quale motivo? Allora, come noi li mettiamo? C'è una corsa, forse è come quando uno non ci ha avuto mai una lira che arriva un grande bonifico, non sai neanche come cestirli, allora non essendoci stati mai i sacchetti come arrivano magari le persone, c'è qualche maleducato che ne prende 20-30 e nel giro di poco tempo, che nel giro di una giornata i sacchetti che dovrebbero durare mesi sono completamente a vuoto e il comune in qualche maniera si è preso quest'alibi e non l'ha messi più. Posso dare una proposta semplice ma concreta? Facciamo un distributore automatico di sacchetti o magari facendo che con una monetina di 5 centesimi o 10 centesimi viene fuori un sacchetto, non è che voglio entrare nella polemica adesso di sacchetti al supermercato. Si parla solamente di una civilizzazione cercare il metodo più concreto e utile per avere questo servizio perché altrimenti posto così pubblicamente è un disastro, infatti averli o non averli serve a niente. Io credo che un distributore del genere sia come quello delle palline, quelli che girano, metti la cosa, viene fuori il sacchettino, cerchiamo in qualche maniera, quindi con i soldi magari uno incassa una cavolata, ci compra anche parte dell'ordine dopo e finisce. Io credo che 10 centesimi non sia un problema per nessuno, 5 centesimi, è una cosa simbolica per poter gestire il servizio. Stop. Questa è la cosa che può essere più intelligente a parere mio per risolvere il problema dei sacchetti. L'ho già proposta, non è stata in qualche maniera esaudita questa proposta, quindi andrò avanti per portarla avanti, poi se non lo faranno entro un anno e mezzo lo faremo noi quando saremo al governo. Va benissimo, benissimo. Noi ringraziamo veramente Enrico Fabraccio, consigliere capogruppo perché sei della civica a Recanati e ti saluto, ti auguro una buona serata, un buon lavoro. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie per la tua presenza qui. L'ultima cosa che volevo dire proprio al volo, Asterio, volevo fare i complimenti, mi sono dimenticato all'inizio a Germano Porsella, il comitato di quartiere di Castelnuovo, che è una persona di più di 80 anni, che tutta la vita è stato castelnuovese, quindi l'ho visto enormemente soddisfatto per questa carica, i miei più cari auguri e effettivamente abbiamo deciso la persona giusta. Quindi grazie a tutti i radioascoltatori e scusate se mi sono un po' dilungato come al solito. No, no, grazie per carità, anzi, ci siamo anche un po' divertiti. Grazie. Ci vediamo.